Ascolti TV ieri, mondiali al 50%, Ued, Scharelli ok, Matano vola. Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 14 dicembre 2022. I mondiali, con il match Marocco-Francia, Rai 1, volano al 50% di share. Un vero e proprio botto. Male il giardino segreto proposto da Canale 5, sotto il 10%. Chi l'ha visto oltre i due? 1 milione di utenti, al 12, 7% di share. Federica Scharelli si conferma una garanzia per Rai 3. Tutti gli ascolti TV del Prime Time di mercoledì 14 dicembre 2022. Uomini e donne fa il botto con oltre 2, 8 milioni di utenti. Barbara D'Urso battuta nuovamente da Alberto Matano ma vicinissima ai 2 milioni di spettatori.